Le celebrazioni come è stato detto un po' inizieranno il 3 e ecco il 3 mattina alla Santa Maria degli Angeli ci sarà questa consegna di questa rosa d'argento, questo riconoscimento che viene dato a una donna di fede, speranza e carità che ha avuto un ruolo determinante anche in questo anno, ecco probabilmente verrà scelta proprio una figura che ha contribuito anche nell'affrontare la pandemia e è una scelta che farà la conferenza episcopale ecco la scelta di questa figura, dopodiché ci sarà nel pomeriggio un incontro di una delegazione con il Vescovo di Assisi a Santuario della Spogliazione, dopodiché partirà il corteo verso dal Palazzo del Capitano fino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli per l'inizio della preghiera del Vespro dove verrà ricordata la commemorazione proprio del transito di San Francesco. e il giorno successivo invece ecco tutto si sposta alla Basilica di San Francesco in Assisi con le celebrazioni come veniva detto alle ore 10, ecco della solene concelebrazione della festa di San Francesco con la presenza e questo è una grande e bella notizia proprio anche del Presidente della Repubblica. grazie a tutti! grazie a tutti!